Musica Bello a tutti ragazzi, bentornati nel Dark Channel, io sono Dark11C e bentornati in questo nuovo video qui su Lego Lobbit Iniziamo subito, vediamo cosa faremo oggi, aspettate Chi ci prendiamo? Lui, dai Vai, 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 andiamo avanti, vediamo qua che ci dice Tiene premuto Y e seleziona Ah, ok Ah, sì, giusto, questa è la selezionata tra i vari personaggi, perfetto, vai Andiamo su, andiamo su No, teniamoci la spada che fa più fighe Vai, vai Su Oh, bravo Dai, andiamo a viaggiare Su, vai Cammina Su Uh, la parchetta dobbiamo prendere, yeee Credo che comunque qualcuno di loro abbia il martello E, 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 eccolo qua Fammi te Perfetto, via E, eccolo qua No, aspettate, stavano qua lì No Non affogare Eh, devo prendere solamente questi Perfetto, via Uh, che figata, vai, andiamo avanti Su Qua sta un sacco di roba da prendere Però sennò poi diventerebbero Eh, moshi gameplay Quindi facciamo No, 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 un momento Allora, per costruire qua Vediamo un attimo Credo comunque che devo andare a rompere i vari pezzi Tipo quelli Vediamo un attimo, eh Oh, no, aspetta Non devo salire bene No Eh, forse questi Questi no Che spettacolo Ah, ecco, vedete E quindi sono proprio questi Perfetto, vai Ah, vedete, vedete Devo rompere questi fili qua Perfetto, vai Raccogliamo tutto Anche questo Perfetto Uh Ah, ah Scusa, scusa, scusa Vai Rompi, rompi, rompi Olè Vai, vai Chord Vai Perfetto Allora Allora, allora, allora Vediamo un attimo B Vuoi sul ponte Se pensavi di trasferire quel bosco E le trovate E' un po' di poterle Raccogliare Ma mi è venuto Non è nemmeno appena Eh Trata solo la prima pietra Piuttosto imbarazzante A dire il vero Se siete davvero Di fretta Magari potresti cercare Di costruirla tu Per costruire questa pietana Hai bisogno di un bottino Il bottino può essere trovato Scavando, sentendo il video O rompendo oggetti Allora No, e come si costruisce? Ma se io tipo salto Crepo? Sì Ok, quindi Dobbiamo andare a trovare Tutti i cosi per fare il ponte Allora, in teoria Andiamo un attimo Vai Eh, vedete? Tutto il filo qua Andiamo avanti, eh No Ho distrutto il cartello Che che? Che figata Figo Bellissimo Andiamo avanti Vediamo un po' Cos'è Allora Usa la fionda Come quella di Per tirare sassi L'interruttore Vabbè, sì Allora Vediamo un attimo Poi Quello che c'ha Non è che non ce l'abbiamo Appresso? Ma i miei compagni Di avventura Dove sono? Oddio Vieni qua Uniamoci Andiamo di qua No Stacchiamo Allora No Allora Quindi se non possiamo Torlar di qua In teoria Credo che dovremmo Rompere questo No Questo nemmeno Questo nemmeno E quindi siamo bloccati Perfetto No, no Credo che devo fare così Vediamo, eh Allora Aspettate un attimo Allora Se Gandalf sta qua Se io Mi unisco Con Gandalf Fa' questo Ecco Facciamo così Oh, ok Vai Ma perché non la rompono Perché non la rompete Con i monzoidi Non c'ho Quello con la fionda Quindi sto un po' Incasinato Vai Allora Aspettate Ah, ma quindi era così facile Il tutto Aspettate, eh Vediamo qua Che mi dice Allora Ti sono due personaggi Come per esempio Per aggregati Avremo i B Per aggregati E frantumare Ok Intanto rompiamo qua Ok, perfetto Vai Ora Finalmente Abbiamo capito Come funziona Ora Basta che prendo Un altro personaggio Tipo lui Andiamo di qua Poi di qua Perfetto Poi Vai avanti Vai avanti Vai avanti Di tutti qua Da stai Vi aggregate E Zzzta Ma No, magari qua Vai Peppete Olè Perfetto Ora che abbiamo fatto tutto Credo che qui dentro Non ci sia nient'altro Sì Allora Vabbè Andiamo avanti E usciamo fuori da qua Anche perché Non abbiamo la fionda Quindi andiamo via da qua Via Ok Ehm No Dobbiamo andare per forza A costruire il ponte Vediamo un attimo E proviamo a raccogliere Altra roba Infatti Fili E tutto Però Non sappiamo Quando ce ne serve In realtà Quindi andiamo Un attimo a vedere Allora Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ah Le carote Tre carote Tre carote Tre carote Dove le prendo le carote Ma io dove le trovo Le carote Ehm Le carote Io dove le trovo Carote Carote Aspettate eh In uno di questi Ci dovrebbero stare Per forza le carote Aspettate Magari sono queste No Carote 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 Vediamo un attimo eh Allora Facciamoci un giretto Vediamo da questa parte Se c'è qualche carote Se c'è qualche carote Se c'è qualche carote Del cappero Non ce la fai a romperle Perfetto Vediamo là Che mi dice In attesa di essere trovato Tutta la terra Guardiamo il pulito Le luci Perché io cerchiamo Mamma Mamma Ah Che spettacolo Vabbè Però adesso Lasciamo un attimo La cosa è che Dobbiamo trovare Le carote E dove trovare Le carote Io non ne ho La più palida idea Oh maiale Vabbè E lasciamo Basta Cazzeggiare Oddio Che spettacolo No 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 Questo è bellissimo Ma che cacolo Ma io volevo Yeee Yuhuuu Ma crepi Allora Allora Vabbè Basta Dovevo trovare Le carote Vai Olle Carote Ehi Carotine belle Yuhuuu Eccola Eccola Non ci saranno queste? Vai Allora Qua non ci sono Cioè Non ne abbiamo mai Qua non ci sono Tornare Vabbè 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 Che figata Vabbè Oh bellissimo comunque Vai andiamo avanti Magari faremo a fine che è conclusa la serie Farò diciamo un episodio Cioè non una specie di serie Con tutte le missioni secondarie Andremo un po' a esplorare il mondo Così cercheremo di concludere il gioco al 100% Se io adesso trovassi delle cacchie di parote Qua non ci sono Qua nemmeno Ma Da qua siamo venuti Allora Senti coso Se tu adesso mi robi le scatole Non mi fai andare avanti senza carote Io ti picchio Ok Oddio che devo fare Ah si Che serve Che serve Non ho visto Questa Qual è questo Anzi questo Vai costruisci 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 Bravo Vai No questa qua Questa Questa Vai costruisci 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 Questa 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 Oh questo Eeeh Questa Vai E' pronto Ottimo Vai Abbiamo fatto pure il ponte Perfetto Te l'ho ancora più imbarazzata Non importa La cosa più importante E' che hai riaperto la via Il bosco dei troll Ecco qua Sono stato pagato in anticipo Ma hai visto Lavoro l'hai fatto tu E' giusto che tu sia Ricevere il compenso Mamma che gentile Magari al giorno d'oggi Ci fosse gente del genere Eeeh vabbè Andiamo avanti Vai Andiamo un po' La comandina Delle ripartate Notte le ruine Di una cascina Condonata Perché la cascina Fosse stata condonata Evidentemente In Tutta fretta Era un mistero Tuttavia Non era certamente Stato qualcosa Di piccolo A distruggerla Ci accomperemo Qui per la notte Eh c'ha ragione Gandalf Non potrebbe aiutarci Eh La rivalità Di Nani Ed Elfi E' bella e grossa Eeeh Che star Di dove vai? Ho avuto Tuttavia Di Nani Per un giorno solo E' riuscita 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 Mantone ieri, mantone oggi Che no, che ne avremo mantone pure domani Smettila di fregnare Queste non sono pecore Queste sono ronzini freschissimi Va bene ragazzi Questo video di oggi può finire qua Io vi ricordo di mettere mi piace Iscrivervi e commentare E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti